Il cantiere al chilometro 17 tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze è stato rimosso per il fine settimana. Per il traffico urbano di Firenze domani verrà riaperto il Lungarno-Torrigiani nel tratto tra il Lungarno e Via De Bardi. Modifica la viabilità di Via De Bardi sui nostri canali social. Per i treni l'Euronotte 35 e 29 e 5 da Monaco di Baviera a Roma Termini al momento viaggia con 26 minuti di ritardo. Ferma chiusi Chianciano alle 8 e 11 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info, in servizio e in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!